Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Nei giorni scorsi i carabinieri di Itri hanno denunciato a piede libero un giovane di 22 anni. Secondo le ricostruzioni dei militari, i carabinieri avrebbero trovato il giovane in possesso di un fumogeno durante l'incontro di calcio nel derby tra Itri e Monte San Biagio. La perquisizione tra le persone presenti, tra il pubblico, era scattata a seguito dello scoppio di un petardo. Il giovane dovrà dunque rispondere del reato di possesso di artifici pirotecnici. Nei guai un uomo di 38 anni di Formia, arrestato dai carabinieri per resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale. Lunedì scorso, secondo quanto reso noto dai militari di Formia, questi sarebbero stati chiamati ad intervenire durante una lite familiare nella quale l'uomo aveva aggredito fisicamente la moglie di 38 anni. Al momento dell'arrivo dei carabinieri il marito, infuriato, se la sarebbe presa anche con i militari che hanno fatto scattare l'arresto. Elezioni comunali di metà maggio. In due giorni gli annunci che tutti si attendevano a Terracina. Fratelli d'Italia e buona parte del centrodestra al momento orfano di Forza Italia hanno scelto come candidato alla carica di sindaco l'architetto Francesco Giannetti. Ma il centrosinistra, che vede alleati Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, non si sono fatti trovare impreparati. E ieri è arrivata la notizia della candidatura a primo cittadino di Francesco Di Sauro, membro del direttivo della fondazione Città di Terracina. A Castelforte si punta a rilanciare l'arancia rossa della frazione di Suvio. Venerdì scorso il convegno promosso dal comune di Castelforte, che punta a valorizzare un'eccellenza riconosciuta in tutto il territorio del Sud Pontino e non solo. A fare gli onori di casa l'assessore Angela Iannotta, ma non sono mancati gli interventi anche del collega assessore all'agricoltura Massimo Falso, ma anche dell'assessore ai lavori pubblici Francesco Sessa, nonché dei delegati al commercio Francesco Panzavolta e di quello al turismo Antonella Moretta, e l'incaricata dalla pubblica istruzione Teresa Maccio. Si è svolta venerdì mattina presso l'aula consigliare del comune di Gaeta la cerimonia di insediamento del mini sindaco e del mini consiglio comunale dell'istituto comprensivo Giusoè Carducci, iniziativa inserita nell'ambito del progetto Coloriamo il nostro futuro, che prevede la sensibilizzazione e il coinvolgimento degli alunni sui temi della cittadinanza attiva. Presenti il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, ma anche la consigliera comunale con delega alla pubblica istruzione Gianna Conte, insieme alla consigliera comunale Michela Di Ciaccio, nonché la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Carducci, Stefania Geremicca e anche la docente responsabile del progetto Immacolata Franco. Ma i veri protagonisti sono stati senza dubbio i bambini che si sono immedesimati nel ruolo di sindaco, assessori e consiglieri comunali. Siamo in chiusura del nostro notiziario, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del GR Locale.